Dicendo loro che c'è la possibilità di cambiare, che non siamo tutti uguali, che in questi anni De Magistris ha fatto a muina, ha fatto sceneggiate, ha parlato alla pancia degli elettori napoletani senza mai dare alcuna risposta, ha lavorato per se stesso, il suo obiettivo è quello di sfidare Renzi alle politiche del 2018. Noi abbiamo a cuore gli interessi di questa città, non crediamo di avere la bacchetta magica, non diciamo ai cittadini napoletani che cambierà tutto dopo il 19 giugno e che in 24 ore ribalteremo la situazione in questa città, ma diciamo ai cittadini napoletani che ci candidiamo a cambiare questa città. Possiamo farlo e dobbiamo farlo, partendo dalle periferie, partendo dal centro storico, dando risposte ai giovani di questa città che sono costretti ad emigrare per cercare lavoro, alle mamme di questa città che non hanno asili nido adeguati ma che sono anche preoccupate perché vedono i loro figli partire, parlando ai commercianti, agli artigiani, agli imprenditori che sono tassati e tartassati dalle tasse. Vogliamo occuparci di loro e vogliamo farlo senza fare chiasso, senza alzare i toni dello scontro, ma semplicemente lavorando con impegno, con dedizione e con determinazione. Questa volta possiamo farcela.